Ciao ragazzi, oggi vediamo la regola del 72. Questa regola è stata inventata da Luca Pacioli ed è un metodo per calcolare in maniera semplice e approssimativa quanto tempo impiega il mio capitale a raddoppiare se lo investo ad un determinato tasso annuo, sfruttando quindi la magia del tasso di interesse composto. Questa regola come funziona? Basterà fare, è molto semplice, basterà fare 72 fratto il tasso. Quindi se ho un capitale di 10.000 euro e lo investo al 10% annuo, per calcolare quanto tempo impiega a raddoppiare basta fare 72 fratto 10, uguale a 7,2 anni. Quindi il mio capitale inizia di 10.000 euro raddoppierà dopo 7,2 anni. Quindi dopo 7,2 anni arriverà a 20.000 euro. Se invece lo investo al 5% il mio capitale impiega 14,4 anni per raddoppiare. È ovvio che se il tasso scende il capitale per raddoppiare ci impiega più tempo. Nel caso contrario, se il tasso sale il mio capitale per raddoppiare impiega meno tempo. 72 fratto 2, se lo investo al tasso del 2% anno, è uguale a 36 anni. Questa è, ripeto, una regola molto semplice ma anche approssimativa. Fammi sapere se ti è piaciuta qui nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!